Ciao, benvenuto in un nuovo video sugli animali del mondo. Oggi scopriremo di più riguardo alla bellezza degli animali del mare e le tre curiosità sugli animali marini che forse non conosci. Quando si parla di fauna marina, si intendono principalmente varie specie di pesci, più piccole e più grandi, che vivono a diverse profondità. Si può sicuramente affermare che il loro aspetto è influenzato dalla profondità a cui nuotano e dal cibo che mangiano. Tutti gli animali marini, non solo i pesci, che vivono a grandi profondità, sono abituati a vivere a basse temperature, alta salinità e completa mancanza di luce. Gli animali marini più famosi includono mammiferi come delfini o orche assassine e pesci della famiglia degli squali o delle razze. Osservarli è il sogno di ogni subacqueo, ma non sempre finisce bene. Un subacqueo disattento può essere ustionato, punto o morso da coralli, anemoni di mare, meduse o pesci. Si tratta di casi molto rari, dovuti principalmente al comportamento inappropriato del subacqueo sott'acqua. Particolarmente pericoloso può essere un incontro con gli squali. Le specie più pericolose sono, ad esempio, i grandi squali bianchi, gli squali tigre e gli squali toro. Le orche assassine sono un altro degli animali marini più riconoscibili dall'uomo. È una specie di cetacei della famiglia dei delfini, mammiferi estremamente intelligenti, che possono essere imprevedibili quando si incontrano sott'acqua. Di gran lunga i più grandi mammiferi cetacei sono le balene. Osservarli con i propri occhi è un sogno di molte persone, perché un incontro del genere suscita molte emozioni ed è estremamente raro. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Ora scopriamo tre curiosità sugli animali del mare che probabilmente non conosci. Al terzo posto troviamo il pesce che depone più uova di tutti. La femmina di pesce luna può deporre fino a 300 milioni di uova e detiene il record assoluto. La produzione di un numero così elevato avviene perché una volta deposte, la madre le abbandona. Circondate da pericoli da cui non sono in grado di difendersi, in particolar modo dai predatori che se ne cibano, il grande numero ne permette la sopravvivenza. Al secondo posto troviamo il mollusco con i denti più duri del mondo. Si tratta del chitone, un mollusco appartenente alla classe dei poliplacofori che vive sui fondali marini. Questo animale, con la sua robusta dentatura, riesce a sgretolare le rocce su cui si trovano le alghe di cui si nutre. I suoi denti devono la loro resistenza alla presenza di magnetite, un minerale ferroso tra i più duri in natura. Al primo posto troviamo l'organismo vivente immortale. L'organismo vivente immortale è la medusa immortale, chiamata così per la capacità di ripetere il suo ciclo vitale all'infinito. In pratica è in grado di ringiovanire in modo autonomo dopo aver raggiunto la maturità sessuale ed essersi riprodotta, riesce a ritrasformarsi in polipo, ovvero a ritornare allo stadio iniziale della sua vita. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.